Il coronavirus non ha affermato il progetto di ricerca scientifica della Lega Tumori Lilt contro il fumo di sigaretta e in occasione della giornata mondiale senza tabacco, istituita nel 1988 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche la Lilt Bari dedica una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema e promuovere una importante campagna di informazione sui rischi e le patologie legate al fumo. I dermatologi, otorino, odontoiatri e pneumologi sono a disposizione perché si possano fare queste visite gratuite associate anche a radiografie della ristoracea in maniera tale da prevenire il cancro. Noi come Lilt facciamo prevenzione cancro e quindi puntiamo molto sulla prevenzione del cancro del polmone e degli altri distretti degli organi interessati, ma la sigaretta fa male al cuore, alla circolazione e sicuramente invecchia prima la pelle, abbiamo un invecchiamento precoce, ce ne sono tanti di danni, quindi è arrivato il momento di smettere. Alle attività presentate in Virgiro ha partecipato anche il sindaco di Bari Antonio De Caro, testimonial della campagna Lilt, insieme allo scrittore Gianrico Carofiglio e Ammingo. Io fumavo 40-50 sigarette al giorno fino a 12 anni fa, il giorno in cui è nata mia figlia piccola, avevo preso un impegno con la figlia che stava per nascere e quell'impegno l'ho mantenuto, non ne sento più la necessità. La prevenzione è fondamentale in tutti i campi della vita, nella medicina, lo abbiamo capito adesso, è assolutamente decisiva e poi questo è veramente un periodo in cui abbiamo voglia di respirare a pieni polmoni. Il futuro non va, diciamo, mandato in cenere in modi così stupidi. Io sono un non fumatore, veramente, cioè non ho mai fumato, forse è una cosa quando ero piccolino ma è andata malissimo e quindi da non fumatore ovviamente vi dico, innanzitutto vi dico lo slogan della Lilt di quest'anno che è prevenire e vivere e insomma queste due parole racchiude tutto. E poi grazie alla dottoressa Lovreglio che è il presidente della Lilt Bari che organizza questo tipo di manifestazioni perché ci vuole vitalità, bisogna rendere anche una sede attiva e quindi grazie alla dottoressa Lovreglio. Non fumate, mi raccomando, ciao!